Ciao, mi chiamo Andrew Owe, sono il detentore del record italiano nel salto in lungo e ho vinto, sono arrivato secondo a un campionato del mondo a Osaka, ho vinto due medaglie d'oro ai campionati europei indoor e outdoor. Era da tanto che non perdeva da un europeo, a parte l'episodio di Nelson Evora alla Coppa Europa di Milano Serie B, Eila, Eila, attenzione che è un grande salto a questo, attenzione questo è un campione, questo è veramente un campione, ha trovato l'incorsa e salto, il salto si... 47, è primo, 47 in testo ogni centimetro, fantastico! Sono venuto diciamo da anni di costanti problemi, ho avuto problemi tendinei, problemi di strappi insomma muscolari, lesioni abbastanza importanti, cicatrici vecchie, da lesioni ovviamente vecchie, e ovviamente ripeto ancora il tendine, ginocchia ovviamente non essendo più un ventenne, in ventenne anche se insomma lo sembro, diciamo che ho avuto parecchi problemi ma diciamo che io non sono una persona che si pone grossissimi limiti perché sono cresciuto con la concezione che il limite ce lo poniamo solamente noi, siamo noi che diciamo quello che possiamo e non possiamo fare, beh fortunatamente anzi diciamo ringrazio veramente tantissimo in questo momento Laserix ma perché in questo momento abbiamo trovato questo connubio molto forte e io già ho avuto l'opportunità di testarla sulle mie problematiche fisiche che ovviamente ne ho purtroppo ne ho ne ho avuto e ne ho ancora svariate e ho visto proprio una diciamo così una sensazione molto particolare nello sfruttamento di questo particolare laser su di me, tendeva a darmi una sensazione molto buona e quindi siamo riusciti a trovare questo connubio per lavorare insieme. Un saluto grandissimi a tutti i professionisti che usano Laserix, alla grande! origine! ora un saluto grandissimi a tutti Grazie a tutti.